vi stuzzicherete un pochettino a vicenda e che soprattutto stuzzicherete l'interesse e la voglia di capire meglio quello che sta avvenendo e di cosa ne stanno avvenendo veramente tante nel mondo del credito e chi ci segue. Salve a tutti, buongiorno a tutti, sono qui con due amici Massimo Famolaro e Oreste Vidoli e sono a presentare l'ultima iniziativa del Credit Village, CVPod. Che cos'è CVPod? CVPod è il podcast di Credit Village. Credit Village è già usufruibile su cartaceo, usufruibile in formato elettronico il portale piuttosto che le newsletter, è usufruibile con gli eventi dal vivo quando si potevano fare in streaming attualmente, mancava un pezzo e mancava la parte audio e abbiamo provveduto con il CVPod. CVPod che sarà appunto la rubrica, si intitolerà Attenti a quei due e quei due sono per appunto i nostri amici Massimo e Oreste, Massimo Famolaro e Oreste Vidoli e sarà una rubrica di approfondimento, di riflessioni su tutto quello che è il mondo del credito e d'intorno. Passerei però adesso a presentare, anzi farei presentare loro stessi al pubblico, Massimo Famolaro vuoi dire qualche parola su di te e poi dopo diamo la parola a Oreste. Grazie mille Gianpaolo, io sono investment manager e blogger da qualche annetto e oltre che amico di Gianpaolo e Roberto Seggio, oltre che di Oreste, sono collaboratore della rivista prima degli eventi Credit Village e non dico altro, sono onorato, quindi sarà un onore e un piacere fare coppia con Oreste che diciamo ho avuto modo di conoscere in altri eventi e sicuramente vi faremo sentire delle cose importanti. Vai Oreste. Grazie Massimo e grazie Gianpaolo, sono davvero molto contento di partecipare a questo lancio di podcast di Credit Village e diciamo che come ex credit manager di una multinazionale bancaria oggi mi lancio anch'io come giornalista. Perfetto, ma dite un pochettino ai nostri lettori, ascoltatori, lettori, cosa avete intenzione di fare? Cosa racconterete in questo podcast? Intanto che cadenza avrà e poi di cosa parlerete? Massimo inizia te, poi finisce. Ok, allora l'idea di Attenti a Quei Due è un format settimanale, un format che parte da diciamo l'osservazione dei principali fatti di cronaca, quindi diciamo da una rassegna stampa, lavoriamo sulla Credit Village è una rivista, fornisce aggiornamenti e quindi una rassegna stampa che però è solo il punto di partenza per un momento di approfondimento e di analisi su quelle che sono diciamo un po' le tematiche più calde e secondo me anche per fornire un punto di vista non troppo usuale sul mondo del credito e direi che insomma questa come anticipazione per non dare troppi elementi può essere sufficiente. Non so che cosa vuole aggiungere Oreste. Io immagino che ragioneremo su vari temi, mi auguro anche che ci ponzecchieremo un pochino massimo, che non ci ritroveremo d'accordo in tutto e per tutto e mi auguro anche di poter portare qualche novità e magari qualche inserto di ospiti che andremo a interpellare su varie tematiche e possibilmente anche in contraddizione tra loro perché no. Ecco, una cosa ma poi alla fine le persone, questo podcast per chi non lo dovesse sapere, com'è che faranno ad ascoltarlo? A di là del fatto che ne daremo diffusione come giornale, arriverà chiaramente il link sulla newsletter eccetera, ma poi cosa devono fare? Devono bloccato tutto, stanno lì in ufficio, devono mandar via la gente e sentire voi oppure c'è qualche sistema un po' più semplice per ascoltare un podcast? No, no, assolutamente. Allora, oltre che ovviamente sull'app di Credit Village, e ricordiamo a tutti di scaricare l'app di Credit Village e il giornale, il podcast è uno strumento fatto apposta per essere ascoltato mentre si fanno altre cose, e CVPod sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di diffusione dei podcast, che ricordiamo essere iTunes o Apple Podcast, Speaker, Google Podcast e Spotify essenzialmente. Quindi dovunque voi sentiate i podcast ci sarà anche CVPod, se non sentite i podcast è il momento per cominciare. Te ne utilizzi Oreste i podcast, sei un fruittore o ti ci avvicini in qualche modo? Devo dire che trovo che sia un mezzo veramente molto molto intelligente, anche molto molto gradevole per la sua fruibilità, perché è praticamente come una radio che ascolti quando pare a te, nei momenti in cui pare a te, e quindi è veramente molto molto di impatto e importante. Difatti io spero proprio vivamente che voi ci cerchiate come CVPod attenti a quei due, e ci troverete su tutte le piattaforme che ha illustrato Massimo Famularo. Bene, allora mi avete incuriosito, se il lettore e l'ascoltatore, insomma, i creativi della giornata avessero ancora capito, i due avranno una massima e totale libertà. Io ho solo pregato, essendo io il direttore responsabile, insomma, di darsi un limite che quel problema arrivano tutti a me, e conto sulla loro buona fede di non mettermi nei guai. E sì, spero anch'io che vi stuzzicherete un pochettino a vicenda e che soprattutto stuzzicherete, come dire, l'interesse e la voglia di capire meglio quello che sta avvenendo e di cosa ne stanno avvenendo veramente tante nel mondo del credito e chi ci segue. E quindi non posso che augurarvi buon lavoro e non posso che dire a tutti di stare attenti a loro due. Quindi a presto e su questi schermi, anzi, su questo audio. Grazie Gian Paolo, a presto. Grazie mille. A tutti, ciao. Arrivederci. CVPod, il podcast di Credit Village, presenta Attenti a Quei Due, la rubrica di riflessioni e approfondimento sul credito ed intorni. Grazie a tutti.